Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo cercato di unire queste due cose. Penso che sia venuto un bellissimo risultato. Cosa hai portato di tu, dato che tu hai avuto un'esperienza con il nuoto a livello agonistico? Cosa hai portato proprio di te, di Raul, all'interno del film? Ovviamente tutta la mia esperienza del passato, gli anni passati, anni passati in piscina, allenamenti, gare, vittorie, sconfitte, momenti di gioia e momenti di delusione. Questo è stato una cosa fondamentale anche nella scrittura, dove si raccontavano dettagli importanti appunto dei protagonisti. Ho letto una cosa troppo divertente sul pressbook di Stefano Reali, dice che insomma che sei un divo che non se la tira, ecco che su di te ci sono gli uccellini che cinguettano. Ma lui è troppo buono, ci vogliamo molto bene, quindi ci sono dei momenti in cui le carriere a volte si dividono e devo dire che sono molto contento di averlo rincontrato perché devo anche a lui il fatto che faccio questo lavoro, perché lui è stato il mio primo regista, colui che mi ha scelto e che mi ha dato il via per questa bellissima avventura. Infatti mi aspettavo di vedere, non so, tipo Biancaneve, gli uccellini, come sempre è vero che sei uno che non se la tira. Io posso dire che sì, è vero, so che vai tutti i giorni a fare la colazione nello stesso bar, che sei... Ah, sai tutto, sei cose brigate, è bene, è bene. Non ti piace insomma fare il divo? Non ce n'è nessun motivo, trovo che chi si sente superiore a qualcun altro forse ha qualche parametro un po' sbagliato nella vita, nei valori della vita. Progetti futuri con la San Marco, con non so... Sono progetti che spero di valutare piano piano, con calma, non c'è niente ancora in partenza e quando arriverà il momento giusto li faremo. E quindi sei in vacanza? Per adesso sì. E' viva! Ma dico per te insomma? Eh sì, 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 infatti un po' di vacanza ci vuole, un po' di riflessione. Da qualche parte? No? No, 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 saremo a casa insomma a riflettere, insomma con il micodrompo la famiglia e i bambini. Bene, va bene. Allora l'1 e il 2 marzo vi invito a guardare Come un delfino su Canale 5, ovviamente alle 20 e 30 e con grande interesse perché è un film che parla di grandi ideali, di grande voglia di rivincita ed è per tutti quelli che pensano di non farcela. Grazie mille. Grazie a tutti.